Buongiorno ragazzi, oggi parliamo delle correzioni ottiche che i greci hanno introdotto nella costruzione dei loro templi, al fine di rendere le loro costruzioni più armoniose. Già abbiamo parlato dell'entasi nelle lezioni precedenti, cioè il rigonfiamento che è posto a circa un terzo del fusto della colonna. Oltre all'entasi, i greci correggevano anche la vista dello stilobate, cioè il basamento su cui poggiavano le colonne. Se un osservatore si pone da una certa distanza a guardare questa fascia perfettamente orizzontale allo stilobate, non la vedrebbe così, non la vedrebbe perfettamente orizzontale, ma leggermente concava. È un'illusione ottica dovuto alla natura del sistema visivo umano. Allora, per correggere questa illusione ottica, i greci rendevano lo stilobate leggermente convesso, cioè leggermente curvo verso l'alto, in modo che all'osservatore apparisse perfettamente orizzontale. Anche le colonne non erano mai perfettamente verticali, ma erano leggermente inclinate verso l'interno, e questo perché una fila di colonne molto massicce ed alte darebbe la sensazione a chi guarda da vicino che le colonne si sporgano verso l'osservatore, verso di lui. Allora, per correggere questa sensazione, i greci inclinavano all'interno, ma leggermente, le colonne, in modo che apparissero perfettamente verticali e non dessero questa sensazione di crollo verso l'osservatore. Ora parliamo della copertura dei templi. I templi, i tetti dei templi, erano formate da grosse travi di legno, sono detti a capanna, in quanto hanno le falde inclinate, generalmente l'inclinazione è di circa 15 gradi. Il manto della copertura è fatto con delle tecole piane, come vediamo nell'immagine. Le tecole piane, in realtà, non sono altro che delle lastre rettangolari di terracotta che venivano disposte per file ordinate, accostate l'una all'altra. Ora, tra una file e un'altra, per evitare le infiltrazioni di acqua piovana, venivano posti a copertura delle tecole a profilo curvo. Ecco, queste si chiamano coppi. Per evitare, infine, che i filari di coppi potessero scivolare verso il basso, alla fine di ogni singolo filare, cioè nella parte bassa del tetto, veniva posta davanti ad esso una lastra messa in verticale, ecco, e questa è chiamata antefissa. In genere, le antefisse erano di terracotta o di pietra. Spesso le antefisse erano anche riccamente decorate, con motivi zoomorfi, cioè rappresentanti animali fantastici. Ovviamente, le falde inclinate del tetto producevano, sui lati minori del tempio, sui lati corti, degli spazi triangolari, che, come abbiamo accennato precedentemente, erano dei triangoli sosciale, e che possiamo vedere anche qua dall'immagine. Ora, l'altezza di questi triangoli generalmente era un ottavo della base, infatti sono dei triangoli abbastanza bassi. Questi spazi triangolari prendono il nome di timpano. Ogni timpano era poi circondato da una cornice. Ora, l'insieme del timpano, che è il vano triangolare interno, e della cornice, tutte e due insieme, viene detto frontone. Generalmente, sulla cima del frontone e sui due vertici laterali, c'erano delle statuine chiamate acroteri. Ora, vediamo un'altra caratteristica particolare dei templi. Anche se i resti dei templi che possiamo osservare non presentano colorazioni, sappiamo per certo che in origine essi erano riccamente colorati, con colori anche molto vivaci, e questo in qualche modo riprendeva un gusto che veniva proprio dalla civiltà cretese, ricordiamo i loro magnifici palazzi molto colorati. Bene, ora ci andiamo a soffermare sull'analisi di alcuni templi di ordine d'orico, particolarmente per osservare come lo stile d'orico che abbiamo definito precedentemente, alla fine non sia altro che il frutto di una lenta ma progressiva trasformazione e continuo miglioramento. Parliamo quindi ora dell'Eraion di Olimpia. Questo è tra i più antichi templi che abbiamo oggi. Sorgeva all'interno di una grande area chiamata santuario. Questo santuario era dedicato a Zeus, proprio nei pressi del quale si svolgevano i celebri giochi olimpici, ecco perché Olimpia. Il tempio è a pianta periptera esastila, come possiamo vedere dall'immagine, infatti ha sei colonne sul lato corto ed è periptero in quanto ha una fila di colonne che circonda l'intero rettangolo. Al suo interno è presente un naos che come vediamo è molto stretto e lungo con un pronaro d'accesso sul davanti e anche un opistodomo simmetrico opposto sull'altro lato, quello opposto all'ingresso. Vediamo bene che il naos all'interno è diviso in tre lunghi spazi da due file di colonde, e ce ne sono otto per ogni lato. Ecco, questi spazi percorribili vengono chiamati navate, quindi abbiamo una navata centrale e due laterali. Se guardiamo con attenzione vediamo che la navata centrale è il, come larghezza, il triplo delle due navate laterali. Poi lungo i muri interni del naos, della cella, vi sono anche quattro speroni, sono quattro blocchetti di muro perpendicolari alle pareti, sono quattro per ogni lato. Questo fa sì che si creano quindi delle enormi nicchie nelle quali erano situate le statue votive. La peristasi esterna, che ricordiamo è la lunga fila di colonne lungo l'intero perimetro, è fatta di sei colonne sul fronte corto e sedici su quello lungo. Il rettangolo di base è quindi del tempo è molto stretto e allungato, in quanto il lato corto è circa un terzo del lato lungo, quindi il lato lungo è tre volte il lato corto. In seguito si adotteranno rapporti più vicini ad uno a due, cioè il lato lungo sarà circa il doppio del lato corto. Bene, ora parliamo ancora di un altro tempio, il tempio di Atena-Faia ad Egina. Egina è un'isola posta nel golfo di Saronico. Anche questo tempio sorge all'interno di un santuario. Questo santuario era inizialmente dedicato ad Afaia. Afaia era un'antica divinità di origine cretese-micenea. In seguito i dori consacrarono il tempio anche ad una divinità loro più vicina, cioè ad Atena, per cui il nome di Atena-Afaia, con cui lo si chiama ancora oggi. Il tempio è periptero ed esastilo, come possiamo vedere qua dall'immagine, però la peristasi, possiamo osservare, è più armoniosa dell'era Ion di Olimpia che abbiamo visto prima, in quanto si hanno sì sei colonne sul lato corto, ma dodici colonne doriche sul lato lungo, cioè con un rapporto tra il lato corto e il lato lungo di uno a due. Qui in questo caso abbiamo che le colonne doriche sono tutte inclinate verso l'interno, proprio per contrastare l'effetto ottico di inclinazione verso l'esterno di cui abbiamo parlato prima. Anche in questo tempio il Naos è diviso, come possiamo osservare dall'immagine, in tre Navate, con la differenza che vi sono due ordini di colonne sovrapposte, cioè abbiamo cinque colonne nel registro inferiore, una trabbeazione poggiante su di essa ed altre cinque colonne in continuazione verso l'alto. Ecco, per intenderci qualcosa del genere abbiamo due registri sovrapposti di colonne intervallati con una trabbeazione. Questa è una probabile ricostruzione.